Hai mai realizzato una ghirlanda fuori porta estiva fai da te? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Nel tutorial di oggi di riciclo creativo ti mostro come riutilizzare dei volantini e i gusci dei pittacchi per creare con le tue mani una bellissima ghirlanda fuori porta estiva. Se ti piace un tutorial come questo ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.